e ancora ciao a tutti fan dei noi con voi con te io sono jonathan e oggi vi farò vedere il mio video con più visualizzazioni del mio account del mio canale youtube beh niente io stavo caricando questo video io giravo per youtube per il per il mio canale e alcune visualizzazioni erano poche alcune 4 va bene alcune 3 però il mio video preferito che mi che ci tengo di più che voi mi seguite e poi ha avuto 90 visualizzazioni anche se siamo a 18 iscritti quindi se vi piace quel video la iscrivetevi arrivare a 100 iscritti vabbè dopo ci sono alcuni video che sono privati questi qua del pianeta di dinosauri come vedete vedi dinosauri a caccia dell'allosaurus rex però però poi dovete vedere un video con 90 visualizzazioni adesso ve lo faccio vedere 3 2 1 non ci sta ci sta anche l'occhio non ci sta comunque adesso quel video la è senza altro meno che è questo aspetta è questo 90 visualizzazioni vedete vuol dire che voi in tutto l'avete visto un po o o aspetta l'ho fatto così qua no 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 qua vabbè ora stavo per fare la mia live su brawl start anche se non mi piace mamma ecco 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 qua No, basta! Basta, 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 basta! Ma tu... Il video non esiste! Eh, stavo dicendo, prima o poi dovrò smettere di fare video, dopo ricomincerò. Ma per Brawl Stars non mi funziona, devo eliminare i video. Cioè, si elimina da solo. Ciao! Ho detto ciao! 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 Ho detto... Finisci video!